Stefano Dorazio riempie San Siro con Dimmi di sì, il momento che ha fatto piangere tutti. Ciao amici di Amica Gossip. Siete pronti per le ultime novità del mondo dello spettacolo? Ma prima di iniziare, se non vi siete ancora iscritti, fatelo ora cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto e non dimenticate di attivare la campanellina per non perdere nessuna delle nostre succulente notizie. Oggi parliamo di un evento che ha lasciato il segno, uno spettacolo che ha riportato in vita le emozioni di un'epoca passata e ha acceso la speranza per il futuro. Mi riferisco al trionfale ritorno dei Pooh sul palco di San Siro. Sì, avete capito bene, i nostri amati Pooh hanno incantato un pubblico di 50.000 persone, mettendo in scena un concerto lungo tre ore che ha toccato tutte le corde del cuore. Roby Facchinetti, con la sua voce vibrante, ha rivelato dal palco, ci siamo visti l'ultima volta sette anni fa e molte cose sono cambiate. Ciò che non è cambiato, però, è l'amore dei fan per la loro musica indimenticabile. Un omaggio speciale è stato fatto ai due grandi poeti della band, Valerio Negrini e Stefano Dorazio, le cui voci continuano a risuonare nei nostri cuori. La canzone di apertura, Amici X Sempre, ha stabilito il tono della serata, seguita da successi come «Ultima notte di caccia» e «L'altra donna del mio amico». Un momento emozionante è arrivato quando la voce di Stefano Dorazio, attraverso una registrazione storica, ha intonato «Dimmi di sì». Non c'è dubbio che Stefano era lì con noi, riunendosi idealmente con la band mentre le immagini che lo ritraevano erano proiettate sullo sfondo. Ma, come ogni storia intrigante, anche questa ha le sue ombre. I fan più affezionati dei Poo si chiederanno «Cosa riserverà il futuro per questa leggendaria band?». Cosa si nasconde dietro l'annuncio di un nuovo tour che toccherà 14 province italiane? E un ritorno definitivo o solo un addio dolce amaro? E non dimentichiamo il passato, quello che ha forgiato i Poo nella band che conosciamo oggi. Riflettendo sulla loro storia, Battaglia ha dichiarato «i Poo, quindi, sono di nuovo insieme, per dimostrare che lavorando insieme è possibile essere amici per sempre». È questa l'eredità che i Poo intendono lasciare? Al termine di un concerto di tre ore, i Poo hanno lanciato una raccolta fondi per la ricostruzione di una scuola materna in Emilia-Romagna, devastata da un'alluvione. Un gesto che dimostra il loro impegno non solo verso la musica, ma anche verso la società. Ecco, miei cari gossipers, la domanda del giorno. Qual è la vostra canzone preferita dei Poo e perché? Condividete le vostre risposte nei commenti qui sotto. E continuate a seguirci per tutte le ultime news dal mondo dello spettacolo. E alla prossima!